musica 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 ma Gaetano è fermo o Freezer è rimorto no stavo vedendo Freezer è rimorto ma che cazzo sta scherzando Freezer è rimorto ma tutto a posto Freezer è rimorto e Dragon Ball Super che fai? vai trovaci a Go culla che voleva Alex ieri chi non ha fatto? ma che cazzo è morto ma che cazzo è morto ma perchè ci stanno due scrini allora? dove è morto? sono Antonio e Simone la merda è Simone il verde è Speranza io stavo chi stava a testa l'ossigio di riuscigiarci? io io stavo con Berdi e Sperco ancora c'era con me l'ossigio di riuscita io ero con me l'ossigio di riuscita non sono fatti foglio eh non sono fatti come me secondo me e Lorella perchè ha parlato con l'oro no sono stato con Polo no l'orella è pulito perchè sono stato con loro però posso dire che uccidere mentre se fai il download è da abbastarti lo posso dire chissimo peccato quando parli da mortale mortacci vostri chi è l'assassino mi fa prendere la povera scobarra 1 più 1 2 più 2 come è 2 più 2 Alex ah no è Paolo come disse Alex 2 più 2 è Paolo è Paolo è Paolo no tiratemi una volta te più ti voglio è Paolo questo è l'accelamento è ottimo però li te ne è pazzesana Paolo ancora non è asciuto in posto comunque Simone prima è stato ma non lo bastardo ma proprio in chiù ma sono andato proprio a cercare ma ci lo bastardo è vero trovo io bene eh curito io che bella stai ma io uuuh ma hanno messo le cose per i dati ma necchichi ma vuoi io metto fa fai salaschia ma necchia metto fa fai salaschia ma necchia ah se le cose per ieri ce le serebbero le cavette dai che c'hanno messo tipo l'anzettina anche l'angolino ma c'è chi stava a telecamere? chi stava sopra ragazzi? chi stava sopra? chi stava sopra? chi stava sopra? come mai fatto a vedere che passavo davanti elettrica? se io il massimo proprio massimo che mi hanno spinto verso sinistra era storage come mai fatto a vedere che passava davanti elettrica? no ma tu non sei passato davanti elettrica sono andato più in fondo alla mappa non ricordo stavolta raga me perchè non mi convinto aia puzza qui aia puzza qui aia puzza qui aia puzza qui aia puzza molto 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 alex 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 che cazzo vuoi che fu? alex 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 posso dire che è il mio figlio e lo fai che non posso dire si io puoi in città città l'ha eliminato di passati che tante che fatte il guanagli sistema ferma al pulsante ragito che da questa ferma però proprio che se fosse un mostro nevrono da cilio su passare orta ci si era chietano poi usi come c'è non ci stanno tutto qui ma jimmy perché sta girando attorno comunque la cosa peggiori di essere uccisi all'estero capire qual è io sapete qual è la morte più brutta ma di morire sul memory su quello da del reattore c'entra mamma che parte e morita veramente ripartono tutti ad ora al reattore io lo stavo facendo prima qualcuno ha chiamato il morto madonna mia mamma mia papà mocca vedete voi sta fermo che sennò veramente venga appigliata da fantasmi ok potete toccare tutto vai toccare i cadaveri scopateci va che stava il corpo elettrica io stavo con sterco quindi sono safe allora io ho visto io ho visto la telecamera di Gaetano che stavo o due quindi posso dire che sia safe in attimine che stavano due e ho visto l'orella e ho visto l'orella che scendeva si appena fatto il memory sto inizionando scende non c'è niente solamente che simone stava con me e che stavo con lui lungo io io c'ho paura di antonio perché vista da Gaetano da reda da redu schermo che su qua teni webcam attivato io fate attenzione antonio c'ha lo slip c'ha la sniper Antonio guarda guarda lì la slip sniper che hai detto la slip sniper la stream sniper chiuda la stream andando chiuda la stream te ne ha qualche di tempo te no ci stanno tracciando stacca 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 voleva essere un padre goliardico non vi permettite niente sto facendo riportate chiittacca là riportate che fra un secondo ok potete riporto apprezzate che no chanzi dai dai aspettative fu Bloomberg potremmi arriva una cucchia owe o o oui o x va accolato segnato sto facendo l'ultima cosa io ho visto che passare steve ho incrociato steve Caetano non mi ha incrociato a me mi ha incrociato all'orella mi ha incrociato a me per cui no no, pure a te e tu steve e io sto salito no, Caetano mi ha incrociato dove stavo? dove stavo? dove stavo? è crashato erano 440 ma io che cazzo è successo? è crashato sta smettendo gaetano.exe si è smesso di funzionare ma tu perchè vuoi votare Gaetano? Gaetano e poi eh minchia perchè non vi succederlo ah ok non devi dirgli intacco ahahah secondo me hai acquittato tu lo sicuro che non stai no, mi raccomando tutto come io siamo andati a sentire ma non mi vanno cacciando ma io non mi vanno cacciando ma io non mi vanno cacciando ma io non mi vanno cacciando non mi vanno cacciando non mi vanno cacciando non mi vanno cacciando voglio che i pollicinelli Gaetano non mi vanno cacciando anche io ti stava seguendo ti stava seguendo secondo me siamo dovutato ma io sto parlando non so non mi vanno cacciando ma che sto a mettere le cazzone sottofondo è un grande comunque nikki vedo che sai che età non lo so io nikki metti che la cazzone la per bonnezza no ragazzi comunque le cazzone sottofondo sono stupende si comunque secondo me io sono crashato non mi sono potuto dipendere ma secondo me qualcuno no tu hai votato guarda cazzo quando ti dovi dipendere sei crashato ma che strano ma ti deve mettere le cazzone della serie prima o fa che data dove stavo qualcuno in privato ha snitchato a qualcun altro bello bello sono la stessa amore l'altro da ma von quando bene metterla giuger luci giù come buona che uo dd mamma adesso non c'è tanto a farelle luci di freddano subito un attimo Pam! Cinto! È già! Vito! 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 Azz! Molto Sherlock! Ui! Molto Sherlock! Simono, se c'è chi votare! Wai, io stavo salendo mo' dallo War Engine, se mi votate, maneggere quel gran porco! Che stavo a fare la cosa, lo stavo a fare... Stavo andando a fare il rattore! Per me Simona non è, perché Simona non mi poteva accedere prima e non mi ha ucciso! Ho ucciso su un po' reattore, porco due! Simona, ritrastami! È andata bene una volta, neanche la seconda! Paolo, su quale basi? Su quale basi? Qua sono le uniti per una settimana? Su quale basi? Non so quello io! E io? Ma io Paolo mazzetta sempre! Porco due mazzetta sempre! Ma perché cazzo ti sei messo a fare veramente le luci invece da ammazzare Alex quando stavo L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! L'ho ammazzato! Nooo all'inizio quando mi ha beccato a me Alex quando mi ha paradoppia! Tu però ti stavi facendo le luci invece di ammazzare! Io c'avevo il cooldown mio! Ma tu comunque devo ringraziare Alex che mi ha ucciso perchè se lo voleva da Paolo! Ti scherzo! Ma io! Perché Paolo stava a fare un calzatane! Ma io! Perché Paolo stava a fare un calzatane! Che voglio mettere! Vai vai! Vogliamo sentire! Poi io accennitelo subito! Vada! Niki mi devo incassare! Comunque tre voti, tre partite e tre voti impostori consecutivi! Niki! Ma è successo! Aiuto! Andiamo a guardare tu! Andiamo a prescindere! E vai! Votr! 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 Alex! Votr! 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 In elettrica l'ho trovato! Secondo me... La butto lì eh! Ma proprio così a caso! Votr! 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 Lo sapevi? Cioè giustamente... Io ho rivoltato il corpo io giustamente! Ma si tromarone chi è? Io sono io! Andah a... Dov'hai trovato il corpo? In elettrica! E l'ho riportato! Votr! Come faccio ai segni! Ah io qualcuno stava a tren! Ah io ho riportato! Poi che stavate facendo?! Ah lei si stesse delle telecamere quando sono scelto! Io sono le telecamere! E invece le telecamere stavano accese! Sembravento 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 Vai vai! va vai 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 c'è ritroio i cittadini un chiuso malcibio fancibio e poi la stessa che ho sclimia non da andare su skriner fusione è tristissimo ci stai pupazzetta di nichi comparte schiattato grazie grazie e viva è solo sto campanile no io sono da fuori attorno non mi rubi tu cazzo e mi piace ma ne c'è di ah io soltanto che mi dice che la figlia ma veramente da gruoste spera che come una figlia no 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 ti cazzo ti vuoto Alex tranquillo io no manche se ti cantè da stasera Alex mi sono perso è Alex Alex quale Alex? quale Alex? diapasco ma vuole scopare ma vuole scopare ma ma stavo facendo la pipì ti abbiamo scampato una domanda già metto il bagno e c'è la ventola in elettrica porca ragazzi dai cazzo stavo facendo il cazzo di memory e uno ma ammazzito te lo sto finendo e uno che porta il corpo porca troia le mani in culo le mani in culo le mani in culo le mani in culo e io stavo in comunicazione io stavo elettrica io stavo elettrica io spero che lo stronzo che mi ha ucciso stanotte vado in bagno ok votiamo Simone io voto Alex grandi ragazzi così grandi grandi ah no aspetta c'è vota tantone grazie mille e una volta Simone si mette il tuo stesso nome mi jale a cinema zack non ci vedi si me la fanno fare sta cosa in elettrica eh madonna mish eh che sto sembramenti cadid mo madonna maaa per cacchi di roba mamma pablo mamma pablo ah andò però ci temerò mentre sto facendo comunque nichi per dire io dopo vado a cagare non ti preoccupare ci vado in bagno ah ok però io spero che chi mi ha ucciso vado in bagno e ci vado non ti preoccupare grazie